Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Counter Strike Global Offensive Io sono Leone e siamo qui oggi per fare una nuova competitiva Per essere precisi sono al... oddio, morto, sono in... come si può dire... Siamo... uh... Quello è lo stile italiano tipo? Non lo so, non ho detto bene Comunque siamo in riscaldamento e non mi sono appunto riscaldato Quindi mi riscalderò qui davanti a voi Ah, che palle E... no, non è lo stile italiano, mi è sembrato un attimo che avesse del verde Dio mio, quanto faccio schifo oggi Comunque, avevo registrato un'altra partita, per questo che mi vedete con un rank più alto Avevo registrato un'altra partita, ma purtroppo la... come si può dire, la registrazione non è andata bene Ho preferito rifarla Oddio, mi si sta ricliccando adesso, grazie Ehm... dove cavolo è? Sta camperando sto tizio? Se... se ne è andato? Della serie ciao? Va bene Eh, ok, quindi... Giochiamo DAS 2 solo perché sì Ho deciso questo perché voglio fare fraggare Non ho... fatto nessun riscaldamento Speriamo che sta registrando Controllo subito, per sicurezza Hello team Controllo dopo, anzi Finito il round Cosa mai sto parlando da solo per un round? Ehi Pushiamo qua perché abbiamo la migliore posizione possibile per pushare qui 1B, 2B 2B 1 mid Vediamo se c'è uno short, che sembra di no Penso su side Ok, tappato Perfetto 1B, 2B 1B, 2B Vediamo se arriva da short Era passato? ST Ok, short è morto Che arma c'ha? No, USP non mi interessa Ok, perfetto Ho la nuova attacca Ok Ho la targhetta del... Diciamo del gruppo Steam Leone GS Quindi, ok Presto vi contenterò anche a voi Questa partita è registrata completamente a caso E prendiamoci un UMP 45 Perché come ben sapete L'UMP è la mia arma preferita dei round Dopo il primo Dove andiamo? Non lo so Credo che giocheremo tanto a caso Non ne ho visti Cioè non ho visto dove vanno L'ha detto lui Non sono sicuro Spariamo Cioè spariamo Mettiamo una smoke qui Magari Li facciamo ruotare Nice Non pushate adesso Vediamo Ah no c'è il blu in teatro Ok Va bene Uff Non devo però fargli perdere l'arma Questo blu Stiamo attenti Oh Dov'è? Long Ok Long Perfetto Oh è round vinto Abbiamo incontrato nemici Noi però è andata bene Ok Il team nostro Sembra giocare bene Però ancora dobbiamo vedere se Sembra giocare bene Oppure gioca bene Sto fragando di pistola Ma come per sempre Il primo round di pistola Lo faccio in modo decente Adesso scusate un secondo Ma voglio controllare Sta registrando Si sta registrando Perfetto E ok Continuiamo Dal prossimo Non è questo un orario in realtà Mentre sto registrando In cui posso chiamare qualcuno Nel senso che veramente non ho Tempo materiale per poter Comunicare a qualcuno qualcosa Di venite a giocare a me Con me Roba del genere Quindi a posti Dover aspettare Devo per forza Giocare Senza Chiamarvi Ho lanciato una flash Aspetta Allora O è a sinistra Mettiamo qui sopra Non ci dovrebbe essere No Cosa? Ah eccolo qui Ok Andiamoci via Proprio così a caso One is B Dove l'altro? Go fast day One CT Ok Morto L'ultimo dovrebbe essere B Ci sono armi migliori Si Mi sembra di sì Ma Sta già guardando lì Cosa CT Well I don't know now 70 HP Think short Lancia quella granata Perchè l'ha lanciata così alta? E' stata una pessima granata CT Ma più che altro ha giocato bene lui Deve essere che ha sentito i passi E si aspettava che usciva da lì Va bene può essere Molto bravo Perchè guardi così in basso? Va bene Così a caso Perchè ai nostri amici Li piace guardare il suolo Ottimo Ho fatto 3 kill Primo round E adesso non ho più fatto kill Prendiamoci la kappa E andiamo a giocare passivo Sul tunnel Almeno Andrò così Questo round Non troppo passivo in realtà Prenderò Ok si stanno droppando Sembrano un team abbastanza affiattato Oh c'è già lui Quindi non mi conviene andare Info Ok 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 Il blu ha aperto praticamente il B Da quanto ho capito C'era l'ultimo Plantiamo Posizione Non è troppo sicura Ma funziona Dovrebbe funzionare Vediamo se si tisce qualcuno No Ok AWP Vediamo È AWP Credo che sarà sul side No Ho un po' uccideci tutte e due Va bene È morto Che palle Che palle più che altro Perchè non è uscito Se ne sta Stanno un pochettino Giocando passivi Almeno io non riesco a trovarli Ho preso i soldi Non è neanche troppo passivino In realtà Per i nostri Stanno giocando molto aggressivi E stanno prendendo i kill Siamo 4-0 Ah sono salito di rank L'ho detto Già Sì l'ho detto Perchè non ho Perchè ho registrato una partita Non era uscita bene E quindi Sono salito di rank Ora un po' di silenzio 1 middle AWP 1 B Ok Nice Blue get bombed Non pusha Noi non sono così stupidi Andiamo se riesco a prendere La kill Non c'è ha rotato I'm coming to save you Give me ace Voleva l'ace Thank you Thank you man Sorry I can't give you ace Eh che cavolo Non potevo dargli ace E fargli uccidere Ho aspettato Ho visto dove era Mi solito no Lo uccido Il verde per fortuna Si è giocata bene Safe suicide Perfetto Tranquilla Tranquilla Questa partita Abbastanza tranquilla Ah ok Ho preso Ho fatto un round Senza raccogliere armi Grazie Presto comunque Dal prossimo video Ho intenzione comunque Di giocare con voi Se ci siete per giocare Se vi interessa fare una partita Con me Scrivetelo anche qui sotto Nei commenti Oltre che Oltre che aprirò un post sul gruppo steam In cui chiederò i vostri orari E poi deciderò 2b Potrebbero pushare stavolta Go away fast Go away Go away Yes Guardo io se ruotano Sta guardando lui Quindi devo per forza andare con loro Però quello là è un pirla Noo che palle Devo andare da loro Metture di scatole Non li hanno retti C'era quello sotto Ho sparato male Io Come on city Questa è la cosa di Mirai Nikki Cioè quella è l'immagine di Mirai Nikki La tizia Yuno Non mi ricordo il cognome Vabbè La tizia Ok Altro tizia Quei guardato L'anime Mirai Nikki Li piace Va bene Uh quella Quella cosa Oh La lotta tra La lentezza con gli avp Comunque La lentezza tra Le cose degli avp Comunque Vediamo cosa prendono Lo prende il viola Quindi io mi piglio Un'arma normale Una granata Una Una k Dobbiamoci revolver Perché io sono revolverman Lo sapete Sono il re delle revolver Non è vero Assolutamente Però Con la deagle Faccio schifo Quindi con il revolver Ogni tanto hito Meglio della deagle Di certo L'ho visto No Mi ha fatto HS Che tristezza Più che altro È stato triste il fatto che Lui mi ha fatto Quell'HS Quel colpo a corpo Molto in fretta Eh La 5-7 è forte È un'ottima pistola Ovviamente è molto forte Se c'è l'entra preferisco la tech 9 Giusto per il gusto personale Io ti guardo M4 tesoro Bravo Don't pick long One long One long Avopi long Yellow don't pick It's long CT No Shoot Ma che cazzo Eh Peccato perché non ho guardato l'altra parte Sto guardando solo short Vabbè Ha fatto un buon tentativo Dobbiamo arrivare su side Non cerco più il pick su B Pus mi to B ok Vabbè Non cerco più il pick su B da solo Ok guys Mi to B Mi to B Va bene Mi to B Qui ho il Galil Ah questo l'ho tenuto con il drop della scorsa partita Va bene Allora vado prima però soltanto Ok Lanciato il fumogeno Non troppo bene L'hanno flashato Dei flash mid Un altro M4 è più forte Oh One window Or corner I don't know Che palle Quello là Ha fatto uno scope Di salto Finalmente l'hanno ucciso Vediamo adesso come sta giocando Il verde Come arriva CT Ma dovrebbe comunque essere una posizione di vantaggio Da qui Si CT One CT The last CT Last CT Don't pick Don't pick Don't Lo santo perchè Man Why you pick I said don't pick man You fucked up Eh non glielo scrivo Perchè se no io rompo le scatole Dobbiamo Non è lag Percavolo I coglioni che dicono lag mi danno solo fastidio Perchè quello non era lag Sei tu che hai piccato male E tu dovevi piccare molto semplicemente Non puoi lamentarti del lag Ho voglia di fare un'entrata di avp Però purtroppo non posso farla perchè ci sono i nostri Adesso Mio caro Guardi mid Va bene Quindi O lo pigli L'avp se che picca O pure Va bene Ce n'è uno Oh sorry Nice flash Andiamo short Devo prendere ripicchio Non sto più uccidendo No No che palle Ha preso lui Però la bomba ST Che bomba Ok Pesa male Ok andiamo a plantarla Va bene Andiamo a plantarla per i soldi Non ce la fa Non ce la fa di poco No ce la fatta Ok Credo che non ce la faceva Non sto giocando bene Ho preso in testa lui Forse avrei preso l'altro Se non c'era lui di mezzo Ma Va bene così Dovevo forse continuare Però c'era la vp Se Era una posizione Abbastanza di merda Vediamo il verde Come se la gioca qui Ecco così Ci siamo passato Non c'è nessuno Che sta guardando middle Qua short nulla Aspetta la flash Il pick senza flash Nice Sade Sade Accomperato A side clear A side Ok Ce ne una long Ce ne sono due long Too long Guarda o ct Beh si short Che palle, non sto giocando male? Eh, però questo qua perde l'arma, per capo No, no, è vero che rimane in vita, sono un deficiente Ricordavo male, comunque sì Peccato, eh, sto giocando proprio male, non piglio le pick Il problema è questo, non piglio, non mi, non faccio entrare i colpi Devo cambiare arma, forse, eh, non lo so Non mi entra nulla Mi sono entrati i colpi di pistola, primo round Poi non ho preso, ho preso una kill, non ho preso altro Cioè, il giallo sta facendo peggio di me, eh Che ce ne vuole, però 4 o 5 Al decimo round E' poco E non vedo Ok, dov'è? Che palle Dovrei averlo hittato, quantomeno Sì? Come to plant Io smocco Ah, che palle Sto giocando proprio male Devo concentrare Vabbè, stanno coprendo discretamente Il problema è che No, sbagliato No, guarda su side La pompa non è plantata per te Cavolo Oh, ma non ce l'ha plantata Defusing, man Verso No, che brutto Ho giocato proprio male La colpa è mia Non dovevo morire Sto stupito Spiriamo questo Non c'è la vp C'è la vp Saper giallo Vabbè Ce n'è uno One long Oh, ho preso la vp One short One short One short One CT Fast on side, man You have the bomb Purple Purple, go on side Leviamoci le scatole Ok, l'avevo sentito bene Allora Short Short Low HP Uh, quello scattino Strano Vabbè Mi vado sulla fiducia Bel flick Al limite Spiriamo gli galilar No king Però almeno Quanto meno Ho preso una kill E l'ho messo low Vediamo eh Come sarà gioca Questo qua Facciamo la flash Adesso La ferata Bravo Two guys B No di più Flottato Nice Ok Long ci fanno entrare È un po' facile Uno scout Andate Platform Long Ok Nice Questa qua si mette più dentro Di smoke No, è messa male anche la mia Però meglio dell'altra Stiamo andando lui CT Do supporto sul log One short Come mi do Ok Do I watch Long 4 CT Come mi do What What Minus Do I'm Speaking To Dai Short Nice Dove l'altro Go Bid Orange Ok vinto Nice job Ongalil Posso piccare Perfetto Dai Ongalil Primito devo cambiare arma Se morivo Quindi non avevo problemi Adesso siamo arrivati in pareggio Anche se ovviamente Stavo giocando Rubio di merda E ok Va bene Speriamo che finisca bene Siamo sul B One middle One more middle One B One middle Ok No Non piccarlo il middle Uff Why are you picking them? Two guys One middle No L'ha visto Vedevo come se la gioca Behind Short Non l'hanno sputtato Sono lunga Quindi La WP Proprio lenta Ormai a mirare Questo La lentezza Comunque 5.9 Può andare bene Se gioco bene La CT Vediamo Perco Prasterlo Però non credo Di chiamare cheat Così a caso Io sinceramente Non flick Andiamo a giocarcela Sull'ongolo Andiamo su B Oggi il B Non mi sta entrato nulla Lui deve Scopero la WP Dio Credo che ha saltato Orfi Ah Facculo Ok 64 64 Tic Two guys Mint Vediamo se vanno a qualche parte Io non so cosa fare da solo Però Ok Andiamo a entrare Sul side Arriveranno tutti insieme Anzi No Non potevo farci Era meglio tentarsi l'entro Magari Riuscivo a pillarmi una kill Però No È vero Vabbè Cambiamo più round di vantaggio Can I watch mint? Can I watch mint? Yes Long 2 mid, top mid, 1 low hp oh ho fatto un altro hs 2 short, 2 short last short push fast nice job so close great hold questo qua sta lag a domare non è il server tesoro, il server non sta pigando ok purple gombi ok zey hai push top mid intuati top of mid They're rotating They're on mid now Ok bravo Non ho mentato un colpo In teoria da dovevo mentarmi No Secondo me vuol da evitarsela Più che altro perché non stiamo così tanto recando Andiamo Prevedo che comprano ma in realtà erano Non so se erano ecco What? Nice Nova 4 Mi too Ma non glielo dico mica però che ho tempo It's B They buy One is low HP Incoming another one on side Nice They're on side CSB side One corner Last corner No I don't know Nice job Nice Nice job È stato bravo Il mio spray non ha funzionato Orange do you want AK? Yes ma'am thank you Era una aveva i soldi peraltro è diverso Mi metto adesso più da lontano perché non sono riuscito a prenderli nella smock Beh non mi aspettavo che pushavano già quel round Adesso dovrebbero essere ecco perché non l'hanno plantato In teoria Bravo Che si è fatto fuori da una VP Questa è una brutta posizione Questa è una posizione migliore Rimaniamo qua camperati Minus 67 Suicide Oh B B B B B B Io non vedo nulla I don't see nothing Go egg Yellow Tunnel clear Short Short Bomb short Gim 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 Cazzo Sorry I fucked up Ah che palle Ho fatto tutto io No era short Sbagliato Sono andato in panic spray Non dovevo andare in panic spray Dove sono semplicemente andare meglio Che scatole Spendiamo la 5-7 Spendiamo il push Spendiamo del push B Del push B fatto male Non di quelli fatti bene Spero rush a push B dentro Spero Che il tunnel è clear Tunnel clear Mi ha visto il mid Mi ha visto il game E' C'è qualcosa Spero Rispassare un attimo Un top of mid Ok Vinto il round Ecco Dammi una cup Qualcosa Eccolo qua Va bene Oh Sto round Ecco ci stava Ci stava tanto Una kill Fai se mi piace tanto 12-3 Ci sto giocando male Sto giocando male Questa partita Non la volete cagare Ho giocata male Stiamo vincendo perché Gli altri fragano Stanno fraggando Soprattutto Quei primi due Kaden E Jossi Jossi Che stanno a fraggare Sto round WTF Don't pick mid WTF 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 C'est pavichou Easy live Ok One turner Top Edi Ehi, muovi, spaventare Vediamo, magari riesco a pillarli, la shorty sto facendo sempre st'ottopato One incoming green Ok, l'HS era molto a caso, sta laggando e non capisco il perchè Flash Ah, è uscito dall'altra, fanculo, perchè non sparò bene oggi? I'm so cold Sorry guys I need a cold 50 50? Really? Non è assa cold Go eco guys Sorry, I have a bad fucking old I'm sorry guys Is he's my friend Is he ok man come come one is beat one more flash one penetration shot one to spawn, one to spawn is easy blue kill here long short 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 one hit one hit bomb dropped I coming I come command camp one suicide I am the tunnel I think green go mid the skill the skill the skill the skill what are they saying can you build i can't i can't i can't i can't Long one Ok la capa è meglio Bravo io no Va beh Il tizio ha preso l'auto noob Dov'è stato uno Devo fare a kill però devo pilare anche sull'altro Devo mi dare la testa Sto minendo troppo basso, do di mi dare più alto Cosa dovremmo potercela fare Poi erano ecco quindi quest'ora non compreranno E' stato muore ora Se rimane là rimane Flasho B Incoming B Quattro Quattro E' bello Quattro 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 Ho giocato bene Ha anche una baionetta Oh sto tizio Però cavolo il purple Quanto mi sta andando sul culo Oh Oh Ehm Drop me my P250 No aspetta c'è l'autonube che non posso lasciargli da prendere Che palle è sto tizio con l'auto Lui ci sta muovendo sempre Che culo Che culo di merda No Ok Che culo di merda l'ultimo round Minchia che culo Nessun drop Che tristezza Beh ragazzotti abbiamo vinto questa partita Non siamo saliti di gruppo Quindi nulla a dire Spero che il video vi sia piaciuto Qua da Leon è tutto Se vi è piaciuto il video vi ricordo di scrivervi e commentare Lascia un mi piace Ciao a tutti ragazzi A un prossimo video Ciao